Musica 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 Tiene 7 hijos, ya sus hijos están ahí justo en el cuadro del medio y mi papá es el hijo mayor. e la mia tia Victoria è la minorcita e la unica hija e la mia moglie molto pronto loro, come sono herederati di niente, di terreni qui in la zona comienzan a sembrare la quebranza, la borgoña come primeras uvas e in questi anni, nel 1910, 15, 20, comienza a venire la ovina quindi loro come la ved una uva molto rustica, la comienzan a elegir come per acercare i vieni protezione per che non entriano i vecini o gente a veces a llevarse i prodotti dei vieni che passa in 1930, in 1930 nace una plaga, la filoxera una plaga mortal per la chebranza, per la Italia, in tutta la zona, non solo in la zona di Cañete si no abarca varie regioni, però che passa qui in Nahuana? no, siamo passati, per favore siamo passati stiamo passati stiamo passati stiamo passati stiamo passati del fun del molino del circo puro pita nostro fiume si chiamano fun del molino Yes stiamo passati la stFlite del frio della elderly quando si addossi si para qui è faturi ora per... ora per... questo è il pacai questo è il pacai il pacai questo è la palta la palta il pacai i papai i palti i palti i palti i palti e tutto e qui la palta la uva vediamo la la natura l'acqua 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 che l'acqua 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 Il cuidado della uva, prima di prima di essere la poda, si fa il lavoro di desinfectare la planta, perché, come viene certi bici, bisogna fare la curazione, la fumigazione, e da lì passa il tempo, si fa la poda, viene la poda, viene il machaco, viene il abonamento, e così sucessivamente, viene il brote, quando è in brote, viene il suo piccolo mantenimento, e così sucessivamente, la maggior parte che va creciendo i grani della uva, e da lì, e da lì, fino a che viene il tempo, viene il tempo, una volta che è madura la uva, per fare la elaborazione dei fischi, del resto dei licori. È un lavoro di tutto il anno, praticamente. Exactamente, tutto il anno si è lavorato, perché, perché, hai che fare il suo mantenimento dopo la primavera, dopo la primavera, e così sucessivamente, si va toman tutte le condizioni che ho apprendato da nostri antepasati. Perden tutto il seco. È un lavoro di tutto. È un lavoro di tutto, è un lavoro di tutto, per che cominciano a brotare. Da due alla notte, è un lavoro di tutto, perché, quello che non si sta avendo. Lo gatto c'è la vita dall'ultra, e così sono un lavoro di tutto il Youtube. Il ragazamento di appare il mio spino. Lo uguale lui dopo il giorno. Il figlio doveva volvere. Cierto? Il giorno di tutto, questo è il lavoro di tutto. Quindi, La città negra è l'injerto. Che tempo demora? De 3 a 4 anni. Per avere il frutto. In cambio la borgoña è più rapida. Mi papà sembrava l'ubina e l'altro metì, l'altro sarmiento. Quando non ci abbiamo dato cuenta, sino al anno siguiente, quando cominciaron a salire le hojas, così in questa epoca, che già cominciaron a salire le hojas, e le borgoña hanno dato a 2 anni. In cambio l'ubina è ancora 3 anni. Non, abbiamo bisogno di vendineare perché va a llover e non possiamo cosechare, mentre si è seco, perché non ci va a salire l'acqua. Se cae a la raiz, va a trovare il grano gordo, se hincha tutto, però è di acqua. Questo non è possibile con vendineare, che si è seco, si è rimaduto, non è uguale. Se lo sape. Certo. Tutto questo abbiamo bisogno di vedere, questi fatti, per questo in questa temporada di vendimia, almeno io dopo... sono Club Girl. Bello. Butto il fatto del fatto che laヤ perché è iSE commenti come in basket. Come Sunterire si è sentivo sempre con le modi, e si lo sape. ma deve pub Earth, andate a tutti mi Egypte! Grazie.